bella tutta aiuto spacco qualcosa bella tutta ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi facciamo il secondo GTA 5 allora come vedete adesso ho iniziato a giocare andiamo adesso abbiamo Franklin ok oh cadi oh 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 non vaffanculo che palle allora Leo ti dà le palle oh vuoi che scendi vieni fatti sotto stronzo il culo eh te sparo eh fa male cambiamo personaggio prima che ci vede c'è la polizia prendiamo Michael Michael Genius scusate se la visuale non è tanto bella perciò godetevela finché vabbè godetevela appunto e basta allora stiamo a casa cazzo 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 caz andiamo di fuori vediamo il tempo sembra che devi dirlo via vabbè anche che moto wow la nostra moto che però non l'ho fatta io l'ho fatta mio fratello perciò però non so per lei ecco a scassarla già vediamo la moto già non si è fatta un cazzo perciò facciamo delle missioni andiamo su s solo mon solo mon che è solo mon ok non è nemmeno tanto lontano ecco la mia auto giustava allora sono 700 metri allora oh che auto vabbè ormai c'è questa moto che corre 100 volte di più proviamo proviamo a non scassarla se no il fratello mi ammazza allora facciamo così come l'ho detto mi devo stare zitto cazzo non gli passo di qua perciò andiamo qua la nostra meta deve stare qua perciò lasciamo la moto qua fuori perché io ho sbagliato tutto no andiamo un'altra volta in moto devo vedere il ragazzo se deve andare questo è un merda di missioni che è scattato penso io c'ho la moto passiamo qua ecco come l'ho detto io cambio personaggio solo quello mi rompe coglioni perciò adesso abbiamo trevor lui è scemo no pace ok 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 calmo e drubm obriamo calmo si lo stai calmo ci ho fatta apposta è riuscito Mi tocca dare un po' le palle Madonna, te bevi un po' troppo te Non devi più bereci E io non ti capisci in cazzo questo gioco Te ci metti pure te che tu ubriachi Stanno a posto Ovvio culo di merda Allora Ci dovrebbe essere il mio pick up Questa è sempre la parte dell'ubriaca Oh zii Che vuoi? Eh? Che vuoi? I wanna watch a fuck Scappa Chef, chef Chiamiamolo Allora Allora Andiamo su contatti Kang Junior Ma va a fuck C'è chi c'è una? Si si ma va a fuck Comunque Tutti occupati? Ok Che a scuro? Vabbè Allora Oh Oh Negro Vabbè Vediamo un'auto Un'auto figo Fugo figo Allora Un'auto di quelle che costano Un'auto Un'auto Non andare Non andare Non andare Vediamo se questa Babà Babà Tanto non è Vediamo cosa succede Si è verificato un errore di connessione Questi cavoli Questi cavoli Allora Adesso Noi Ecco Quest'auto Anche se è un po' da poveracci Però Passo Scendi Ho scoperto come andare a fanculo le persone No coglione Non voglio Aspetta Che cazzo Che cazzo Aspetta Alice No Perché Sono stronti Allora Mi devo ricordare come mandare a fanculo Aspetta Che cazzo spari Non mi devo ricordare Tolgo la canzone Se non mi fanno copyright Cazzo Corri Mi fanno copyright Che cazzo Che cazzo Fuck you madre Oh Merda Oh 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 Ok Lui tutto tranquillo Guida L'auto Di merda Prima Troviamo un'auto Quelle belle E che corrono Dai ragazzi Questa non fa capare Ve la faccio vedere io Un'auto bella Che cazzo sta a fare? Oh Tu a me non mi suoni Capito? Capito? Vieni ancora? È il negro? Sì Ma ci stanno le auto Che L'auto Che vi voglio far vedere Così Spansiamoci che c'è la pula Dove sta? Dove sta? Dove sta? Dove sta? Dove sta? Che coglione Vediamo se qua c'è l'auto Sì c'è un'auto Troppo di merda Ok Credo che qua in città Non ce ne siano Perciò Io andrei da Una missione Allora Oh cazzo Aspetta Andiamo un attimo A casa di Michael Voglio te che dici Se gli spariamo un po' sotto casa Allora Scendiamo E adesso Prendiamo Facciamo così E dovrebbe arrivare Un messaggio Perciò adesso Ecco Guarda Si mettele a disparare Contro casa mia Stronzi Oh I'm fine Cazzo Stronzi Stronzi Perlo controlli Capito? Non mi devi Dai Mi volete che mi fa copyright? Che cazzo Se mi fai copyright E adesso mi tocca Attenzione del viso Ok Telefono di merda Che cazzo stai facendo? Scusa eh Come si faceva a mandare a fanculo? No 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 Spegni sta merda Questa mosca di merda Non ti appassiamina anche la pula Che cazzo fate? E' infami Fatemi scappare va? Eccola Oh zia Allora la pula è questa qua davanti Si? Ok Lo volevi Che cazzo Ecco che succede Eccola No Vabbè insomma l'avete vista? Chiedo Un secondo Fatemi vedere a quanto sta il video Un secondo 12 minuti Sto registrando con il telefono Perciò Scutasse se la visuale è di merda Allora Credo che per oggi è tutto Lasciate un bel commento Un mi piace E se non siete iscritti Iscrivetevi Vi do 5 secondi Per iscrivervi Lasciate un mi piace E attivate la campanella Uno Due Tre Quattro Cinque Va bene Cinque secondi passati Perciò Per oggi è tutto Io chiudo il video E ci ribecchiamo nel prossimo video Ciao